Alla fine sono arrivate le notizie e possiamo dire con tutta tranquillità che Atalanta-Juventus sia stata un massacro per alcuni del fegato, per noi proprio degli esseri umani, almeno gli altri hanno lasciato solamente un pezzettino dopo la partita di ieri, noi abbiamo lasciato tre giocatori, quello che fa più notizie in questo momento è Douglas Costa che già sin da ieri se ne parlava di questo problema che aveva riportato durante la partita, e oggi è arrivato diciamo il referto medico che parla di, e lo leggo perché sono termini che io non ho la minima idea di che cosa stiene a significare, ha avuto una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra e ciò sta a significare che starà fermo a grandi linee per un paio di settimane, in più Bernardeschi ha avuto un trauma all'emitorace destro e De Ligt la spalla effettivamente se l'è lussata, quindi diciamo che ieri è stato più o meno un dramma scendere in campo, almeno il risultato ci ha lasciato con un minimo di sorriso, ma qui di fatto è una strage, ma poi o nel senso De Ligt ci può stare, alla fine dà un contrasto così e tutto. Bernardeschi non ho ben capito come si sia fatto male, però alla fine dai Bernardeschi, gli puoi dire molte cose Bernardeschi però dal punto di vista fisico è veramente un ottimo giocatore da questo punto di vista, ma Douglas Costa ragazzi miei, cioè adesso va bene tutto quanto, ma già lo stanno centellinando, l'hanno centellinato no? Nonostante avesse recuperato da abbastanza tempo, l'ha fatto sempre giocare un pochino, un quarto d'ora lì, venti minuti di là, mezz'oretta di là, senza mai eccedere nel minutaggio, invece nonostante tutto non c'è niente da fare, lui gli basta proprio cinque minuti così per far vedere che c'è, si fa male, due settimane di nuovo che poi va a capire con i suoi tempi di recupero perché anche l'altra volta era un periodo dai abbastanza breve, figa l'ha raddoppiato e speriamo bene, cioè alla fine purtroppo questo giocatore qui è veramente ecco, il termine giusto penso sia di cristallo perché burro non rende, cristallo preziosissimo, costosissimo, che se ce l'hai c'è un figo della madonna però non ci vuole niente perché si rompa, cioè proprio è veramente fuori di testa e capisci perché effettivamente la Juventus giustamente non può puntare solo ed esclusivamente su Douglas Costa e non si può ritenere un giocatore imprescindibile ma non perché non lo sia ma perché non ti dà le garanzie lui per esserlo purtroppo e stessa cosa bene o male vale anche per Ramsey, anche lui un giocatore tanto bravo, tanto forte quanto gracile e poi perché Sarri continua a far giocare Bernardeschi perché lui non si fa male, cioè oddio in questo caso sì però nel senso ti dà una sorta di integrità fisica ecco sai che può correre per tutta la partita male che vada non fa un cazzo sotto porta ma per il resto di almeno c'è, mamma mia ragazzi che partita quella di ieri sotto tutti i punti di vista mamma mia, adesso speriamo che per Bernardeschi e De Ligt non sia nulla di particolarmente grave, certo ovviamente contro l'Atletico dato che dopo domani non so chi ci sarà dei due, probabilmente nessuno dei due anche giustamente perché già che sono infortunati perché magari rischiarli, ovvio è una partita importante quella di martedì al fine del primo posto però la salute è più importante ecco diciamo così, poi fortunatamente perché poi tutte le partite vanno giocate la prossima sarà domenica in casa contro il Sassuolo quindi sulla carta dai hai la possibilità anche di fare del turnover però ragazzi mamma mia è una strage veramente almeno l'anno scorso erano problemi muscolari, cioè qui dal nulla si fanno male alle costole, cioè io va bene torace, a posto non entro nel merito, bene così ciao